200.000 euro e sconterete il debito. Quando il gioco si fa duro. Le gare con il destino. Vediamo un sacco di soldi. Non ci sono regole. Questi sono spietati. Ci sono loro. Ma chi guida? Dunno. Ficcabba, caoletta! E' pronto a togliere un freno a mano. Enzo Sardi. Maurizio Battista. Ma perché non ho un rapimento? Fausto Infurio. Mamma mia. Giovedì in prima serata su Italia 2. Grazie.